Endless Love, spoiler al 906, Onder cacciato di casa, Mewigan non ha tentato il suicidio. Gli spoiler di Endless Love delle puntate in programma dal 3 al 9 giugno rivelano che Vildan caccerà Onder di casa, dopo aver scoperto da Zeynep che ama ancora Leila. Kemalenian, invece, apprenderanno che Mewigan non ha tentato il suicidio gettandosi dall'ultimo piano della casa, è stata spinta da Galip. Vildan caccia di casa, Onder a causa di Leila Kemal e Zeynep recupereranno il certificato di morte di Mewigan grazie a Sedat. I due uomini scopriranno il nome della persona che ha assistito al tentato di suicidio della madre di Emir. All'oscuro del fatto di essere spiati da Nian. Nian affronterà Kemal per chiedergli di essere sincero con lei, in quanto desiderosa di aiutarlo a trovare Nursen, ovvero la persona che ha assistito al fatto. L'uomo confiderà alla donna di non aver avuto una vita felice visto che non l'ha vissuta accanto a lei. Zeynep vedrà Leila e Onder parlare. Zeynep si precipiterà da Vildan per metterla al corrente di quanto visto e sentito. La donna andrà su tutte le furie e si scaglierà contro suo marito cacciandolo di casa. Intanto ci sarà una buona notizia per la famiglia Soidere, Tarik sarà prosciolto dall'accusa di omicidio. Kemal scopre Mewigan non ha tentato il suicidio che Malenian raggiungerà Nonursen, accusandola di aver firmato il falso certificato di morte di Mewigan. La donna, con le spalle al muro, ammetterà che Mewigan non ha tentato il suicidio, ma che è stata spinta giù da Galip. L'uomo ha instigato la moglie a uccidersi, convinto che avesse avuto un figlio dall'amante. Kemal racconterà la verità a Emir, che esigerà una spiegazione dalla madre. Mewigan riuscirà a pronunciare solo un rantolo a causa delle sue delicate condizioni di salute. Galip chiederà a Aki di licenziare Kemal, ma la richiesta verrà respinta. L'uomo annuncerà che le quote dell'azienda passeranno ad Assu e Kemal. Deine praggiungerà Emir e insieme passeranno dei momenti di passione, tanto da rischiare di essere scoperti dai rispettivi coniugi. Kemal crederà che Toffan stia ricattando il suo rivale e sospettando che siano fratelli. Per questo motivo ordinerà il testo del DNA a un laboratorio di analisi. Endless Love, variazione d'orario per l'8 giugno Endless Love subirà una variazione d'orario per l'8 giugno, posticiperà la sua trasmissione per via di un episodio più esteso di Terra Amara. Che in quel giorno andrà in onda con il finale di serie. La sopa andrà in onda in seconda serata dalle ore 23.55 fino all'1 di notte, quando la linea verrà presa dal TG5.